nino scusa posso parlarti buonasera buonasera signor sarci tutte cose perché cercano una parla proprio non darci una parola sarci tutte cose con gli attori che ti ha mangiato a fare qua perchè devi essere escluso signor gli attori mi ha rubato 10 mila euro lo so lo so che sia grazie che bella amica che tengo hai visto come hai combinato e ora che vai trovando ha detto vai da nino e chiedi scusa scusa di cosa ma scusa di cosa di quello che ha fatto prima o poi te li restituirà prima o poi non ne voglio nemmeno ciò i soldi non c'è l'importante che adesso la faccia a me non la vedi più allora posso rimediare io? che vuoi rimediare signor che vuoi rimediare? ti porta al ristorante ti invito a cena questa sera e poi casomai scondiamo in natura che sta andando scemo chiatto chiatto di queste violenze canale viva il malacolo non è scioglia